Rispondiamo al post di Martina, il secondo post che ha fatto nel gruppo, che è relativo all'esame delle urine del suo cane. Vediamo cosa ci scrive, vi condivido lo schermo e vi faccio vedere il post. Buonasera, un cane di 4 anni che è sotto allo Purinolo, oggi ha eseguito le analisi di controllo, la funzionalità renale, feco, democrome, elettroliti nella norma, deve ancora arrivare all'elettroforese. Se l'esame urine non ha destato preoccupazione del veterinario, ma io noto le uociti e mazio è un peso specifico 1020, un pH basico e un aspetto molto torbido. Un profilo del genere non potrebbe far pensare ai calcoli renali, effetti collaterali dell'Opurinolo, infezioni, infiamazioni levie urinari. Allora sei studiata perché hai trovato già da solo dei problemi, ora ti spiego rapidamente questo esame. Questo esame a me desta grandissima preoccupazione. Tratiamo di fare un po' di ripasso su come si legge l'esame urine. Primo rigo, campionamento free catch, che vuol dire campionamento libero, non è stato fatto in ceiling, è stato preso il campione direttamente per minzione spontanea. Colore dark yellow, cioè giallo scuro. Quando il campione è giallo scuro il rischio è che c'è molta bilirubina, vuol dire che i globuli rossi si stanno rompendo. O c'è sangue nelle urine decantato che si sta rompendo. Già questo solo, avere le urine giallo scuro ti dice che dovresti andare a fare un'ecografia per capire quello che sta succedendo. E dovresti fare un emocromo per capire se non c'è emolisi, cioè rottura dei globuli rossi. Aspetto veri, Claudi, molto torbido. Cioè le urine non sono trasparenti, vuol dire che c'è materiale in sospensione. Possono essere batteri, possono essere cristalli dell'Opurinolo, possono essere entrambi. Peso specifico 1020, questo va in contrapposizione con i fattori precedenti. Perché se hai un peso specifico basso, l'urina dovrebbe essere limpida e trasparente. Invece hai un peso specifico basso e l'urina è scura e torbida. Perché c'è un peso specifico basso? Perché è evoluto con l'alimentazione? O perché il rene non riesce a concentrare l'urina? Magari perché c'è una proteina un respinto e un danno renale? Ai posti dell'ardua sentenza ci serve il resto delle analisi. pH8, un aumento del pH, può essere indicativo di sviluppo batterico. Proteine e tracce, quindi serve il rapporto più Cu. Perché proteine e TR vuol dire che ci sono tracce di proteine. Anche lì, dov'è il rapporto più Cu? E quant'è l'albumina di questo paziente? Se sotto 3,5 può essere che perde proteine con le urine. Glucosio negativo, corpi chetonici negativo. Considera che i nostri pazienti sono tutti corpi chetonici positivo. Perché è proprio voluta, perché la chetosi aiuta a guarire il paziente. Sangue 10 e leucociti 25. Questo vuol dire che il cane ha infiammazione e probabilmente infezione delle vie urinarie. Se l'infezione risale sono dolori. Bilirubina 1, ne avevamo parlato per le urine scure. Perché c'è bilirubina? Non è che si stanno rompendo i globuli rossi e c'è emolisi? Dovremmo vedere le analisi complete. Ulubirino giorno è la norma e poi qua ci sono le immagini. Quindi, che non desta sospetto, a me desterebbe tanto sospetto. Perché ci sono indicazioni per dirti che o si stanno rompendo i globuli rossi nel sangue o si stanno rompendo dentro la vescica. Servono gli esami completi. Può avere anche infezioni delle vie urinarie che poi risalgono e ti mandano il cane in insufficienza renale e poi tutti con la scusa e l'insufficienza renale dalla ismania. Un bacione. Spero di aver ti dato qualche informazione in più.